Un saluto a tutti i campanari di Youtube, ci troviamo a Crema e questa è la chiesa di San Benedetto Abbiamo un concerto di otto campane che ascolteremo per la Santa Messa Solenne della Solennità di tutti i Santi Ascolteremo ovviamente il concerto solenne che suonerà mezz'ora prima della Messa A presto! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.